A dispetto di chi sino alla vigilia le aveva tacciate come strumento inadatto per un elettorato poco incline a gare di democrazia. Le primarie del centrodestra francavillese per la scelta del candidato sindaco da proporre alla corsa per le amministrative 2014 hanno già dalla mattinata attirato migliaia di cittadini evidentemente per nulla intimoriti dal clima da santa inquisizione che si respira da tempo nelle stanze di Castello Imperiari. Il padiglione dell'ente fiera dell'ascensione prescelto per ospitare i quattro seggi è stato letteralmente invaso sin dalle prime ore del mattino. Qualche pecca organizzativa e un regolamento non sempre chiaro hanno fatto storcere il naso da alcuni candidati. Tra la discussa presenza dei rappresentanti di lista all'interno degli stretti spazi preposti per ospitare i seggi, la presenza di manifesti all'interno dello stabile e l'incredibile mole di vecchietti letteralmente presi a braccetto e accompagnati di fronte alle urne, il clima è stato comunque rilassato senza grandi disordini che non siano dovuti alla risposta dell'elettorato. Alle 12 avevano votato circa in 2000 già in nottata, quindi scrutinio, risultati e proclamazione del candidato sindaco di PDL, Forza Italia e la Puglia prima di tutto. Intanto le impressioni dei cinque candidati, Sgura, Bungaro, D'Alema, Leone e Lipolis sono positive. Non fosse altro per la forma tutt'altro che appannata, mostrata dal centro-destra. Veramente siamo sorpresi, aiutati anche un pochettino dalla giornata buona fino a questo momento. È un'ottima esperienza anche per noi candidati immagino, perché siamo per la prima volta a confrontarci con questa modalità di scelta del candidato sindaco. Il popolo francavillese vuol dire la sua per la scelta del futuro candidato sindaco del centro-destra e quindi di un potenziale sindaco di Francavilla Fontana. È una bella partecipazione, fino a questo momento molta gente che viene a votare e quindi è una cosa che fa sicuramente bene la partecipazione dei cittadini alla politica. Ottima affluenza, grande affluenza, anzi forse non ci aspettavamo così tanta gente, siamo ancora a metà mattinata ma i numeri sono già incredibili. Questo vuol dire soltanto una cosa, che la gente come io auspicavo ha ritrovato la voglia di credere e di ricredere nel centro-destra. Questo significa che i cinque candidati in campo si sono mossi abbastanza bene, chi individualmente, chi ha squadra, credo che ha fatto un buon lavoro. Insomma non resta che aspettare la notte poi polemiche interne da spazzare via sbandierando la famosa carta di intenti che garantisce l'appoggio incondizionato di tutti i candidati al vincitore e via con la vera campagna elettorale da affrontare contro i veri avversari che sull'altare della discontinuità promettono una rivoluzione.